Si è concluso il primo test driver del percorso ciclabile che unirà Monaco di Baviera con l'Italia passando per Treviso. Staffetta ciclistica a cui hanno preso parte anche diversi giornalisti e facente parte del progetto europeo Ciclovia dell'amicizia, sostenuto anche dalla provincia di Treviso con l'assessore alla cultura Silvia Moro. Questo gruppo speciale di ciclisti, di cicloturisti che sono partiti da Monaco e che sono arrivati a Venezia per testare la ciclovia dell'amicizia hanno trovato un tempo non proprio gradito. Il brand era stato attraversato con 30 centimetri di neve però comunque è stata una bellissima esperienza per tutti. Sono arrivati a Volpago del Montello dove li ho incontrati come tappa trevigiana. La provincia di Treviso infatti è stata partner di questo progetto europeo che vede la realizzazione di 560 chilometri di pista ciclabile su 3.000 metri di dislivello da Monaco appunto a Venezia. È un percorso molto importante per il nostro territorio perché è una forma di turismo questa che sta crescendo in maniera esponenziale. Riusciremo dopo questo test e risolte alcune criticità e affrontati i punti di forza che andranno promossi nei mercati internazionali, riusciremo a inaugurare questo tracciato a giugno quindi saremo pronti per l'estate.